Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPI lì in direzione mare ci sono code per lavori tra la Strassigne e Ginestra Fiorentina. Ci sono lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Pina 1 l'area di servizio di Arno Est in direzione Bologna e sprovvista di GPL. Sul raccordo Siena-Firenze restringimento di carreggiata e scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi ricordiamo di guidare con prudenza nel rispetto del codice della strada e senza utilizzare i... Grazie a tutti!